È un incontro tra gruppi parlamentari sull'agenda parlamentare. Il Vice-Segretario Guerini ha chiarito che non si è trattato dell'ingresso in maggioranza di ALA. Non è un incontro per definire l'agenda, ma per confrontarsi sull'agenda politica. Così, il Presidente del PD, Martè Orfini, ai microfoni del Fatto Quotidiano, prova a ridimensionare l'incontro tra i vertici del Partito Democratico e una delegazione di ALA. Non mi risulta, taglia poi corto il Presidente Demma la domanda, se fosse ipotizzabile una formalizzazione di un appoggio esterno di Verdini al Governo, rispondendo tra le righe anche a Roberto Speranza che aveva definito l'incontro come una follia inspiegabile. Un incontro normale prosegue poi Orfini che spiega come Verdini non sia la priorità del PD dopo le indagini di Camorra che hanno travolto i Demmi in Campania. La vicenda legata a Graziano e alla Campania non credo vada minimizzata e non credo l'abbiamo fatto, afferma poi. Prima lo scandalo in Campania che lega Partito Democratico e Camorra e oggi addirittura Renzi apre le porte della maggioranza a un condannato per corruzione, cioè Verdini. Questo conferma quello che abbiamo sempre detto, cioè che il patto del Nazareno è in ottima salute. Ed è gravissimo che Renzi continui a stare in silenzio sulla Camorra. Al centro dell'incontro quindi, secondo fonti parlamentari, i prossimi provvedimenti in discussione a fronte dell'appoggio che ALA avrebbe garantito alla maggioranza nei mesi scorsi. No, 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 questo è stato un incontro fra il PD e ALA. È la prima volta che accade perché noi siamo nati come gruppo successivamente al Senato e non c'era mai stato un incontro ufficiale, ci siamo incontrati perché abbiamo sostenuto le riforme, sosteniamo altri provvedimenti per trovare un metodo per non arrivare in aula nelle commissioni senza aver discusso e parlato tutto questo. Abbiamo parlato anche del referendum perché avendo votato le riforme noi vorremmo partecipare, anzi partecipiamo alla battaglia referendaria e dobbiamo stabilire come fare questi comitati. Non c'è un'idea chiara neanche da parte del PD, quindi abbiamo parlato. Quale è il comitato di questi comitati? Cioè noi li faremo, ne faremo parte? Come io con il PD? Non sappiamo, abbiamo aperto questo versante, anche loro non hanno le idee chiare. Chiaro c'è un comitato nazionale che è quello previsto per la legge a sostegno e poi dopodiché ognuno farà il suo o lo faremo insieme. I contenuti sono cose diverse, si discutono dopo aver stabilito un metodo su come fare perché fino a oggi non avevamo un metodo se non quello dell'autodeterminazione di ala che è nata per le riforme, non solo quella costituzionale e anche le altre perché riteniamo questa legislatura zoppa, nata zoppa e costituente.